A Dispica torna aria di elezioni amministrative. Bastava infatti che l'emergenza Covid arretrasse di qualche metro ed ecco il clima politico che torna ad accendersi ed infiammare i due principali competitor, Innocenzo Leontini e l'attuale sindaco Pierenzo Muraie, al centro delle polemiche quanto fatto in questi mesi di emergenza. Secondo l'opposizione, che appoggia la candidatura di Leontini, poco e niente, e quello che si è visto da parte del primo cittadino, è apparsa come una velata manovra clientelistica. Lo slogan Stiamo a casa ci ha inseguiti senza sosta, ha affermato il candidato a sindaco Leontini, ma chi ha chiesto agli altri di fermarsi per rimanere l'unico in movimento in campagna elettorale è stato il sindaco Muraie. Ha indossato tutti i panni impropri pur di fare clientela, ha fatto l'operatore della protezione civile a tempo pieno, ha consegnato pacchi alimentari, ha deciso da solo a chi destinare i buoni spesa con l'inevitabile conseguenza di escludere tante famiglie che ancora oggi li attendono da oltre un mese. Dopo aver utilizzato in tal modo 148 mila euro ottenuti dallo Stato, il sindaco ha deciso, continua Leontini, di destinare per i buoni spesa altri 63 mila euro derivanti da progetti sociali mai avviati. Non si capisce piuttosto come mai ad oggi non ha iniziato a utilizzare le risorse trasferite già nelle casse dell'ente da parte dell'assessorato regionale alla famiglia il cui primo acconto è di oltre 90 mila euro. Nulla invece riguardo gli aiuti agli esercizi chiusi per due mesi richiesti dai consiglieri dell'opposizione sotto forma di contributi per il pagamento degli affitti e dell'energia elettrica. Sempre volando in alto e nel rispetto del covid il sindaco ha recuperato ex consiglieri comunali delusi ed ex aspiranti assessori, ha definito nuovi accordi politici utilizzando il comune, cioè concedendo un assessorato a movimenti civici e a conduzione familiare. Ma se l'opposizione parla di puro clientelismo approfittando dell'emergenza, il sindaco Muraie contraattacca affermando invece di essersi fatto in quattro per la propria città. Al contrario, leggendo quanto affermato dall'opposizione, Muraie ritiene sia stato ampiamente superato il fisiologico limite del confronto politico. L'imminente campagna elettorale, ha affermato il sindaco, non giustifica un'azione di contrasto verso il sottoscritto che sfiora i limiti dell'ossessione personale. Non muterò il mio atteggiamento diretto alla disponibilità costante verso tutti. Ho fatto il mio dovere nella qualità di autorità di protezione civile e sindaco. Mi ritengo un figlio del popolo ispicese che si spende per la sua gente. Chi mi ha chiamato, continua Muraie, ha sempre avuto una risposta a una parola di conforto. Dare un aiuto alle parrocchie di Ispica per fare carità in un periodo di emergenza la ritengo una scelta giusta. Esprimo vicinanza al mio caposettore ai servizi sociali, conclude Muraie, che con tutti i dipendenti del settore interessato ha sempre lavorato nel rispetto delle regole. Le critiche mi scivolano addosso, il rancore è un sentimento che non mi appartiene.